Questo articolo è stato scritto da un essere umano, ma quella pubblicità che hai visto ieri mentre eri in autobus potrebbe essere stata realizzata da una macchina. Annunci come quello sono solo l'inizio della rivoluzione della Natural Language Generation, NLG, la generazione di linguaggio naturale. NLG è il termine dato ai progressi dell'intelligenza artificiale che hanno consentito alle macchine di padroneggiare rapidamente l'arte di produrre comunicazioni iscritte di alto livello e accuratezza, con una prosa sempre più difficile da distinguere da ciò che viene prodotto dagli esseri umani. Insieme a Natural Language Understanding, NLU, rappresenta un sottoinsieme del Natural Language Processing, NLP, che si concentra sulla conversione di dati non strutturati da voce o testo in informazioni strutturate. Mentre l'NLU si concentra sulla compressione del testo analizzando il contesto, la semantica e la sintassi, l'NLG mira a rendere i dati facilmente comprensibili per gli esseri umani. Le prime applicazioni, già negli anni 90, includevano la produzione di testo semplice a partire da una serie di dati per generare bollettini meteorologici. La Natural Language Generation è poi stata utilizzata nel giornalismo, negli articoli sui punteggi e le statistiche di partite sportive, o per estrarre i numeri salienti dai report sui risultati aziendali. Il suo campo di applicazione ha continuato ad ampliarsi, con ricadute ora possibili in tutti i settori. Si sono così moltiplicati il potenziale di crescita e le opportunità di investimento impatto dell'NLG sui social e-commerce per cominciare. La NLG ha il potenziale per avere un enorme impatto sul social e-commerce. I brand e gli influencer faranno sempre più affidamento sulla generazione automatizzata di contenuti per fornirne di più e, soprattutto, per interagire di più con il proprio pubblico, sia attraverso le risposte automatiche dei social media, sia attraverso i chatbot. L'NLG aiuterà a ottimizzare i contenuti e ad aumentare il coinvolgimento in tempo reale, che a sua volta dovrebbe tradursi in un'esperienza utente iperpersonalizzata. La generazione di linguaggio naturale è, sempre più spesso, anche vista come una caratteristica fondamentale delle piattaforme di business intelligence e analisi, dove viene utilizzata per trasformare i dati in testo e grafica, rendendo entrambi più accessibili e facili da interpretare. L'NLG può aggiornare automaticamente il testo e le immagini in un report aziendale non appena vengono ricevuti nuovi dati, generare aggiornamenti settimanali, ad esempio sulle campagne di vendita, e confrontare i dati effettivi con quelli pianificati o precedenti. Il natural language generation nel marketing un altro settore in cui l'NLG sta conquistando spazio è il marketing. I software più evoluti possono già utilizzare la natural language generation per estrarre testi, ottenere informazioni sulle campagne passate e su loro successo per sviluppare contenuti più efficaci per annunci, pagine web, blog e post sui social media. Il team NB ha degli Orlando Magic, ad esempio, usa l'NLG per generare messaggi individuali ai propri fan, aumentando così il loro coinvolgimento. Gli utenti che sfruttano questa tecnologia stanno aumentando e provengono da una gamma sempre più ampia di settori. Includono il quotidiano statunitense The New York Times, il fornitore di alimenti per animali e medicinali PetkerX, il marchio di bevande energetiche Red Bull e il rivenditore Ted Baker. Men mano che il marketing diventerà più personalizzato, rivolgendosi ai singoli clienti, la quantità di contenuti necessari aumenterà, rendendo sempre più importante il supporto della tecnologia. A sua volta, questa tendenza genererà più dati, da utilizzare per ottimizzare ulteriormente il software. Con il mercato globale del content marketing che si prevede raggiungerà i 418 miliardi di dollari entro il 2025, pari a un incremento. Anno medio che sfiora il 16%, il potenziale di business è considerevole. Secondo gli esperti del settore, l'adozione su larga scala della generazione di linguaggio naturale nella pubblicità e nel marketing potrebbe verificarsi in appena tre anni. È anche probabile che diventi prevalente nel front-end dell'editoria tradizionale. Articoli semplici, riepiloghi, descrizioni, contenuti base per i siti web. Il presente materiale di marketing è emesso da PICTE Asset Management, Europe, S. A esso non è indirizzato a, e non è concepito per la distribuzione a o l'utilizzo da parte di, qualsiasi persona o entità avente cittadinanza, residenza o ubicazione in qualsiasi località, stato, paese o giurisdizione in cui tale distribuzione, distribuzione, pubblicazione, messa a disposizione o utilizzo sono in contrasto con norme di legge o regolamentari. Prima di effettuare qualsiasi investimento, è necessario leggere l'ultimo prospetto del fondo, del modello precontrattuale se applicabile, del documento contenente le informazioni chiave, il bilancio annuale e la relazione semestrale. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese sul sito www.assetmanagement.picte, o in forma cartacea presso PICTE Asset Management, Europe, SA, 6B, Rudufort-Niedergrenod, L2226 Lussemburgo, o presso l'ufficio dell'agente locale, del distributore o dell'eventuale agente. Di centralizzazione del fondo. Il documento contenente le informazioni chiave è disponibile anche nella lingua locale di ciascun paese in cui il comparto è registrato. Il prospetto, il modello precontrattuale se applicabile, nonché il bilancio annuale e la relazione semestrale possono essere consultati anche in altre lingue. Si rimanda al sito web per le altre lingue disponibili. Solo la versione più recente di tali documenti è affidabile per prendere le decisioni di investimento. La sintesi dei diritti degli investitori, in inglese e nelle diverse lingue del nostro sito web, è disponibile qui e su www.assetmanagement.picte nella sezione risorse a piedi pagina. L'elenco dei paesi in cui il fondo è registrato può essere ottenuto in qualsiasi momento presso PICTE Asset Management, Europe, S.A., che può decidere di risolvere gli accordi presi per la commercializzazione del fondo o di comparti del fondo in ogni singolo paese. Le informazioni e i dati contenuti nel presente documento non costituiscono una offerta o una sollecitazione per l'acquisto, la vendita o la sottoscrizione di titoli o altri strumenti o servizi finanziari. Tutte le informazioni, le opinioni e le stime qui contenute riflettono un giudizio espresso al momento della pubblicazione e sono suscettibili di modifica senza preavviso. La società di gestione non ha preso alcuna misura atta a garantire che i fondi indicati nel presente documento siano adeguati per un particolare tipo di investitore. Il presente documento non deve pertanto sostituire un giudizio indipendente. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione personale dell'investitore e può subire modifiche nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento si raccomanda all'investitore di verificarne l'appropriatezza tenendo conto in particolare della propria conoscenza ed esperienza in materia finanziaria, dei propri obiettivi di investimento e della propria situazione finanziaria, ricorrendo ove necessario a una consulenza professionale specifica. Il valore dei titoli o degli strumenti finanziari menzionati nel presente documento, e il reddito che ne deriva, possono tanto aumentare quanto diminuire e vi è la possibilità che l'investitore non ottenga in restituzione l'intero capitale originariamente investito. Le presenti linee guida per gli investimenti sono linee guida interne soggette a cambiamento in qualsiasi momento e senza preavviso, nei limiti del prospetto del fondo. Gli strumenti finanziari menzionati vengono indicati unicamente per finalità illustrative e non devono essere considerati come una offerta diretta, una raccomandazione di investimento o una consulenza per gli investimenti. Il riferimento a un titolo specifico non costituisce una raccomandazione per l'acquisto o la vendita dello stesso. Le allocazioni effettive sono soggette a cambiamenti e potrebbero essere cambiate della data del materiale di marketing. Le performance del passato non sono indicative e non costituiscono una garanzia dei rendimenti futuri. I dati relativi alla performance non comprendono le commissioni e gli altri oneri addebitati al momento della sottoscrizione o del rimborso delle quote o azioni. Tutti i dati dell'indice qui riportati restano di proprietà del fornitore dei dati. Le note legali del fornitore dei dati sono disponibili su Asset Management. PICTE nella sezione Risorse a piedi pagina. Il presente documento è una comunicazione di marketing messa da PICTE Asset Management e non rientra nel campo di applicazione dei requisiti MIFID 2 MIFIR specificamente collegati alla ricerca per gli investimenti. Questo materiale non contiene informazioni sufficienti per supportare una decisione di investimento e non deve costituire la base per valutare i meriti di un investimento in qualsiasi prodotto o servizio offerto o distribuito da PICTE Asset Management. PICTE non ha acquisito i diritti o l'autorizzazione per riprodurre i marchi commerciali, i logo o le immagini riportati in questo documento, a parte il suo diritto di utilizzare i marchi commerciali del gruppo PICTE unicamente per finalità illustrative. PICTE Asset Management